L'Associazione Regionali dei Cori Siciliani, Ars Cori, in collaborazione con il Coro Magnificati di Agrigento, organizza e promuove domenica prossima, 1 ottobre, alle ore 19, con il pariocino e sessorato Beni Culturali della Regione Siciliana, il Comune di Agrigento, il Parco della Valle, l'Arcidiocesi di Agrigento, la Rassegna Regionali dei Cori Siciliani, giunta quest'anno alla sua sedicesima edizione, nata per favorire l'incontro e lo scambio di esperienze tra le corali associate e al contempo offrire al territorio una giornata di musica e di spettacoli. L'evento inizierà con la sfilata per le vie principali di Agrigento dei 16 cori partecipanti per un totale di oltre 600 coristi. Alle ore 10 i cori riuniti eseguiranno Osacrum Convivium nella scatenata della cattedrale, all'interno della quale alle ore 11.30 animeranno la Santa Messa. A partire dalle ore 16 del pomeriggio, le 16 corali partecipanti alla 16 edizione della Rassegna Corale dedicata alla Musa del Canto Corale e della Poesia Amorosa all'interno del Parco della Valle dei Templi a gruppi di 4 si esibiranno per 20 minuti ciascuno, nei seguenti 4 siti, Tempio di Giunone, Tempio della Concordia, Tempio di Giove e Tempio dei Dioscuri, eseguendo brani di ogni epoca e di genere. Quindi alle ore 18 tutte le colari partecipanti si raggrupperanno davanti al Tempio della Concordia, dove verranno consegnati gli attestati di partecipazione negli enti e nelle istituzioni che hanno reso possibile la realizzazione dell'evento e tutti i direttori delle corali partecipanti. Quindi alle 18.30 accompagnati dalla banda intercomunale Bellini di Agrigento, gli 600 coristi intoneranno nell'ordine il Canto degli Italiani, di Mameli, Madre Terra, l'inno ufficiale della regione siciliana e Moment for Morricone, una miscellanea di alcuni brani tra quelli del noto maestro di musica.